A Martinsicuro comincia ad entrare nel vivo la campagna elettorale per le amministrative in programma per il prossimo 12 giugno. I tre candidati in questi giorni hanno già pianificato i vari comizi nel centro città e nelle frazioni. In totale sono sette le liste presentate, tre in appoggio della candidata Simona Lattanzi di area centro-sinistra, PD Europa Verde e Piazza Grande. Una lista rigeneriamo la città in appoggio di Emma Zarroli che dopo la frattura con l'attuale amministrazione di cui ha fatto parte come presidente del Consiglio Comunale ha deciso di candidarsi. E infine il sindaco uscente Massimo Vagnoni che punta al secondo mandato appoggiato da tre liste Progetto Comune e Continuiamo Insieme e Martin Rosa. Io sono abituata a lavorare sul territorio in questi cinque anni. Chi mi conosce ha visto che ho dedicato tutto il mio tempo libero, quando possibile, a partecipare ad eventi, a sostenere associazioni, comitati e a lottare per alcune questioni risolte o nuove. Io sono pronta ad affrontare questa sfida sostenuta da un gruppo coeso che vuole dedicare la propria attenzione a cambiare finalmente la direzione che sta prendendo questa città. Ho sempre dato un contributo da oltre vent'anni ad una fetta importante della società che è la società formata dai cosiddetti civici. Fermo restando che per quanto riguarda le amministrative ritengo che ciascuno di noi debba portare nel proprio cuore il proprio ideale e non confonderlo perché le esigenze, ciò che bisogna valorizzare sono le esigenze delle persone. Ci sono persone che hanno voluto far parte di un progetto che è iniziato diversi anni fa, ha fatto di tante cose buone, che punta a rinnovarsi. E quindi quello che più a noi interessa è essere un gruppo di persone valide che metta a disposizione il proprio tempo e le proprie professionalità per far crescere questa città. E credo che siano un po' gli argomenti principali di questa campagna elettorale. Sono in politica da diversi anni, ho iniziato a portare avanti un'idea di far politica che punta molto sul coinvolgimento, sul lavoro che possa portare poi la nostra città veramente a migliorare di anno in anno e al centro di quelle che sono le varie dinamiche sovracomunali. Le interviste integrali dei tre candidati andranno in onda nella trasmissione speciale Elezioni in programma domani giovedì 25 maggio alle ore 22.30 sul Rete 8.